Consigliere Bo, prego. Grazie Presidente. Noi del Itali Valori vogliamo essere intanto vicini alle famiglie che in qualche maniera hanno dovuto sopportare e sopportano tuttora questo grande disagio, questa grande difficoltà. Ovviamente ne condividiamo i contenuti della mozione e ci auspichiamo che questo maggior coordinamento delle forze dell'ordine parta da subito e ci auguriamo che anche l'appello fatto alle istituzioni centrali abbia seguito. Cercheremo anche noi in qualche maniera di sensibilizzare i nostri rappresentanti. Riteniamo, entrando anche nel merito della mozione, che sia necessario dotarsi di questi strumenti quanto prima, che sono la banca dati centralizzata delle persone scomparse, che oramai è uno strumento per ciò che riguarda altre materie d'uso comune. Mi fa molto strano che ancora non si sia stata istituita, idem per ciò che riguarda i campioni del DNA delle persone scomparse. Noi riteniamo che le istituzioni centrali non possano e non debbano essere sostituiti da trasmissioni televisive. Quindi riteniamo di dover sollecitare con forza un cambiamento di rotta rispetto a questi argomenti e come tale per quel che è nostra possibilità cercheremo di adoperarci. Grazie.